Musica Abbiamo visto il prototipo del WOW due anni fa nel 2019 proprio qui, adesso è in realtà, è uno scooter fatto e finito e già in 40 punti vendita se non sbaglio Sì esatto, abbiamo incominciato le vendite due mesi fa cominciando a consegnare i primi, adesso stiamo andando a regime la fabbrica sta crescendo come volumi e stiamo incominciando a consegnare in modo capillare su un po' tutta la rete di vendita in Italia Come sta crescendo il marchio WOW sia a livello di commercializzazione italiana ed estera ma anche ci sono nuovi modelli in vista? Allora sul piano della commercializzazione in questo momento siamo focalizzati come consegne sull'Italia e stiamo creando invece le basi per l'anno prossimo espandersi in altri mercati esteri In particolar modo affronteremo all'inizio dell'anno la Spagna e poi progressivamente la Svizzera, la Francia, l'Olanda e il Belgio Invece dal punto di vista degli altri modelli stiamo lavorando su un modello un po' più sportivo quindi la stessa piattaforma, ancora più performance perché noi diciamo amazing electric quindi vogliamo essere coerenti a questa logica e l'anno prossimo a EICMA ne vedrete delle belle Grazie mille allora Grazie a voi